Buongiorno, buongiorno a tutti, buon 18 aprile, martedì 18 aprile, data che da tempo abbiamo cerchiato sul calendario perché questa sera si gioca Napoli-Milan. L'attesa sta per finire, l'ora X sta per scoccare, dentro o fuori, paradiso o inferno, tutto si deciderà alle ore 21 di questa sera, però vi faccio vedere cosa è successo. Ieri sera, intorno alle 10 e mezza, 11, forse anche più tardi, sotto l'hotel Vesuvio, l'hotel che ospita il Milan qui a Napoli. Prima di farvi vedere il video vi ricordo che potete ovviamente iscrivervi al canale se il lavoro che vi sto proponendo vi piace. Guardate il video e poi lo commentiamo insieme. Vesuvio, Vesuvio, Vesuvio vedi? Vesuvio ha ruttato, ha ruttato Cessolo Milano, voi lo vedete? E insomma era annunciato l'arrivo dei tifosi sotto l'hotel del Milan, lo abbiamo scritto anche nei giorni scorsi, lo abbiamo detto anche nei giorni scorsi, tifosi del Napoli che si sono radunati proprio per creare un disturbo, provare a disturbare il sonno, diciamo provare a disturbare il riposo dei giocatori rossoneri di Stefano Pioli prima di un evento così importante. Oltre a questo video insomma ce ne sono tanti altri che girano in rete, Cori contro Teo Hernandez, Cori contro Paolo Maldini, insomma i bersagli sostanzialmente sono sempre gli stessi, Teo Hernandez più degli altri, anche se ripeto nei giorni scorsi per quanto riguarda Teo c'è stata una bruttissima e vergognosa pagina con insulti molto pesanti al giocatore e al suo figlio sulla pagina Instagram. Poi da quello che abbiamo capito è vero che c'erano tutti questi tifosi riuniti sotto l'hotel del Milan ma poi sostanzialmente con le stanze e le finestre insonorizzate non è che arrivava tutto questo rumore ecco nell'hotel e nelle stanze dei giocatori del Milan però era curioso farvi vedere cosa era successo ieri sera a Napoli. Per quanto riguarda invece le dichiarazioni ieri sera eravamo presenti anche alla conferenza di Juan Gesus e Luciano Spalletti, Juan Gesus ha parlato sulla stessa lunghezza d'onda di Zielinski, ieri vi ho riferito quel messaggio di Zielinski che diceva facciamoli parlare poi dopo martedì staranno tutti in silenzio dopo martedì non parlerà più nessuno. Sullo stesso tenore di quelle dichiarazioni anche Juan Gesus ha parlato di provocazioni da parte dell'ambiente Milan prima della partita dell'andata e poi della partita del ritorno. A me sinceramente queste provocazioni non risultano non ho notato grosse provocazioni da parte dei protagonisti dei giocatori del Milan dell'allenatore del Milan ma anche dei tifosi stessi però se prendiamo in esame solo per esempio i giocatori del Milan io ho visto un basso profilo da parte dei giocatori rossoneri tanto è vero che ieri il Milan non ha voluto neanche svolgere il walk around la pitch inspection non è andato sul campo del Napoli come fa di solito all'estero quando va a attastare il terreno del campo che poi ospiterà la partita. E quindi sostanzialmente il Mian ha fatto questa trasferta proprio in toni proprio ridotti e anche le dichiarazioni sono state proprio molto minimal insomma sono state ridotte al minimo quindi non noto alcuna provocazione e lo stesso Juan Gesus dice loro ci hanno provocato però noi risponderemo sul campo così come abbiamo fatto all'andata ci vuole la cosiddetta cazzimma. Ecco risposta che mi lascia per quanto perplesso e basito perché va bene l'impegnarsi l'essere determinato sul campo ma non per una provocazione che poi sostanzialmente non c'è stata o io non l'ho avvertita. Passiamo anche e soprattutto però alle questioni di campo perché poi questa sera si gioca si gioca e la partita vale tantissimo vale il ritorno in semifinale da parte del Milan o l'accesso in semifinale da parte del Napoli per il Napoli sarebbe un risultato storico per il Milan lo è altrettanto ma il Milan è un po' più abituato avendo vinto sette volte la Champions League. Ebbene l'ultima volta che il Milan è arrivato in semifinale di Champions League è stato nel 2007 quindi praticamente 16 anni fa quando poi ha vinto la Champions League contro il Liverpool ad Atene. Ecco quindi sono passati comunque tanti anni da quella partita vi do anche un po' di informazione. Abbiamo detto che ieri non c'è stato il walk around sul campo del Napoli e non ci sarà oggi nemmeno il corteo da parte della curva sud rossonera che verrà direttamente accompagnata allo stadio. Saranno circa 2.500 i sostenitori del Milan quindi settore ospiti tutto esaurito saranno 2.500 i tifosi poi credo che ce ne saranno anche tanti altri sparsi nei vari settori dello stadio azzurro lo stadio Diego Armando Maradona il Milan dovrebbe giocare con la maglia rossonera quindi non con la classica maglia bianca delle notti Champions delle trasferte Champions ma con la maglia rossonera vedremo quindi piccole informazioni anche per quanto riguarda la partita di questa sera piccole curiosità per quanto riguarda la probabile formazione la stiamo ripetendo da ieri cosa che però non abbiamo detto in queste ore è che l'ipotetico passaggio in semifinale da parte del Milan porterà altri 20 milioni di euro nelle casse dei rossonieri e questo vuol dire avvicinarsi sempre di più al pareggio di bilancio al break even e questo vuol dire dare una forte scossa una forte impennata all'aspetto finanziario del bilancio del Milan quindi il passaggio del turno sarebbe fondamentale anche dal punto di vista economico non solo dal punto di vista sportivo e della soddisfazione personale dei giocatori, della squadra, del club e della dirigenza ovviamente anche dei tifosi però non sottovalutiamo anche l'aspetto economico e finanziario di questo eventuale passaggio del turno il clima è un clima molto teso c'è tanta adrenalina molto coinvolgimento emotivo quindi si sente, si avverte questa partita anche noi siamo a Napoli vi ho fatto vedere già da ieri insomma anche nei vicoli nei quartieri napoletani si avverte molto non si parla d'altro si parla solo ed esclusivamente di questa partita che per il Napoli è storica perché comunque loro non hanno mai avuto accesso ai quarti di finale di Champions e tutto in un tratto possono addirittura arrivare in semifinale quindi il peso della partita si avverte, si sente e noi non vediamo l'ora di vederla questa partita 90 minuti molto intensi ma attenzione potrebbero anche essere più di 90 minuti se il risultato dovesse andare in un certo modo noi ci vediamo più tardi dallo stadio Maradona un abbraccio a tutti e insomma se i video che vi sto proponendo in questi giorni in queste ore vi piacciono iscrivetevi al canale attivate la campanella mettete like e diffondete ciao